Sono 1859 i casi positivi al covid-19 in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. Rispetto a ieri dunque, si registra un aumento di 60 nuovi casi su un totale di 978 tamponi analizzati, 6,1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 78 su un totale di 683 tamponi analizzati. 331 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in provincia dell'Aquila, 74 in provincia di Chieti, 119 in provincia di Pescara e 85 in provincia di Teramo, 62 invece in terapia intensiva, 14 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 25 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 1.141 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 179 pazienti deceduti. 146 sono invece guariti, di cui 124 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 22 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 15.846 test, di cui 10.307 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 197 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monalacuila, 361 all'ASL Lanciano-Vastochieti, 771 all'ASL di Pescara e 530 all'ASL di Teramo. Dei 60 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 6 fanno riferimento all'ASL Avezzano sul Monalacuila, 19 all'ASL Lanciano-Vastochieti, 16 all'ASL di Pescara e 19 all'ASL di Teramo.